Come realizzare un ritratto ad acquarello in 30 minuti e perché è un esercizio così utile? Lo vediamo in questo video. Ciao, io sono Shamila e vi do il benvenuto in un nuovo video. Nel mese di ottobre ci siamo dedicati durante le dirette alla realizzazione di ritratti in 30 minuti. Oggi ve ne mostro uno anche spiegandovi perché è stato un esercizio così utile. Vi ricordo che se volete seguire le mie dirette basterà collegarvi su Twitch il martedì alle 17.30 perché sono dirette aperte a tutti e gratuite. Sto usando un mix di colori non ben specificato, stavolta non posso dirvi esattamente quali colori ho usato perché ho utilizzato un po' di colori rimasugli nella palette, quindi non so neanche esattamente quali ho utilizzato. Comunque vedete una terra e un pochino di rosso per il momento e ho utilizzato una immagine di riferimento qui che metteva molto in evidenza il contrasto tra luci e ombre. Questa è un'ottima tipologia di foto per dedicarsi a ritratti veloci perché già sapere, già vedere bene la differenza tra zone ombre e zone di luce è un grosso aiuto. Sto utilizzando un pennello abbastanza grande e che trasporta una grande quantità di acqua per avere il tempo appunto di creare una campitura unica in tutte le zone d'ombra del volto e lasciare bianche le altre. E questo già crea un certo senso di volume nel volto. Avendo tempo perché la mia campitura è ancora bagnata, ho la possibilità di andare a rendere più sature alcune parti del volto. Quindi utilizzo una sorta di arancio bruciato e vado con un pennello stavolta un po' più sottile in modo da non mettere più acqua nella mia campitura per creare queste variazioni di colore che portano tanto interesse e tanta vibrazione sulla superficie del foglio. Quindi sto giocando proprio con questo equilibrio di toni tra toni caldi e toni freddi su una campitura invece che aveva una temperatura media diciamo. E questa è una cosa che secondo me ha funzionato particolarmente bene. Ecco una grande risorsa, un grande vantaggio di creare questi studi in 30 minuti è che non abbiamo quell'ansia di dover creare un dipinto finito, importante e fatto perfettamente perché già partiamo con l'idea che sarà uno studio veloce e questo ci permette anche di buttarci molto di più, di provare delle tecniche nuove, di sperimentare e di mettere a frutto alcune idee che possiamo segnarci per poi utilizzarle in dipinti anche più strutturati. Questa fase secondo me è riuscita anche particolarmente bene proprio perché avevo tempo perché la prima campitura era stata abbastanza bagnata. Questo è fondamentale perché se voi create una prima campitura già con il pennello mezzo asciutto non avrete assolutamente il tempo di andare a inserire altri colori che possano sfumarsi che possano interagire tra di loro in questo modo organico ma vi verranno fuori un sacco di macchie e un sacco di separazioni tra un colore e l'altro. Il colore per i capelli invece lo posso dare su asciutto perché voglio giocare con gli effetti di asciutto su asciutto per creare anche un po' la texture dei capelli. Stessa cosa per la barba che tra l'altro va a sfumarsi leggermente con la campitura ancora bagnata all'interno quindi vediamo alternarsi delle zone più asciutte e delle zone invece un pochino più bagnate e sfumate. e vado a utilizzare lo stesso colore anche per i baffi e per le sopracciglia. A questo punto è buono e utile creare i punti più scuri e andare a definire un po' di più occhi naso e bocca. La mia campitura è quasi del tutto asciutta ma utilizzando il pennello con il colore molto denso anche il pennello non deve essere troppo bagnato prendendo il colore denso non si creeranno spiacevoli fioriture quindi vado a definire in questo modo le parti più scure che di solito sono le ciglia, le pupille, le narici e gli angoli esterni della bocca. Adesso devo assicurarmi invece che la base sia completamente asciutta per cominciare a fare delle macchie, dei riempimenti con il pennello un po' più bagnato perché le macchie vengono molto meglio, vengono molto più belle se fatte con il pennello abbastanza bagnato perché il colore è libero di muoversi e il pigmento di depositarsi senza creare quegli effetti diciamo sporchi che invece creano le campiture un po' asciutte. Essendoci tanto contrasto in questa immagine tutta la zona d'ombra deve essere un po' intensificata però avere quella base sotto è una sorta di mappa che posso seguire e che mi dà già delle indicazioni utili e importanti su come trattare quella zona quindi quali colori andare a inserire, a rafforzare o a modificare non sarebbe stato altrettanto facile se avessi creato una base completamente uniforme e poi utilizzare il pennello abbastanza bagnato mi dà la possibilità di far confluire le zone di colore l'una dentro l'altra cosa che non è possibile fare se si usa di nuovo un pennello troppo asciutto o che non trasporta abbastanza acqua. Questo pennellino, prima che me lo chiediate è di marca Romashmal purtroppo non si trova facilmente neanche online l'ho comprata ad una fiera spero che prima o poi qualche negozio possa venderli anche in Italia perché effettivamente è uno dei miei pennelli preferiti trasporta un sacco di acqua ed è molto morbido. Porgo particolare attenzione a quali sono le parti fredde dell'ombra e quelle calde per esempio in questa parte vedete un accostamento di toni più aranciati con un accostamento di toni più bluastri e cerco sempre di evitare invece i punti di luce come per esempio lì sopra il labbro. Continuo a intensificare le mie ombre facendo sempre questo sforzo di capire che tipo di variazione cromatica posso apportare all'interno di una stessa zona d'ombra e parallelamente vado a rafforzare anche i punti più scuri. Da il momento anche di scurire la zona dei capelli utilizzando sempre la tecnica dell'asciutto su asciutto perché è una tecnica che crea aiuta a creare quella texture che è particolarmente utile per i capelli afro ma non solo. Più inseriamo punti scuri più ci rendiamo conto che i toni medi non sono abbastanza scuri quindi vado di nuovo a creare un terzo strato sulla pelle. Potevo farlo dall'inizio creare una zona più scura dall'inizio? Sì, però si avrà un risultato un po' diverso. Da un certo punto di vista creare una zona abbastanza scura da subito può creare maggiore uniformità e non creare una sovrapposizione di velature quindi l'effetto sarà diverso non migliore o peggiore ma semplicemente diverso. In questo modo io ho il vantaggio di avere un po' più controllo su quanto effettivamente è scura o chiara quella zona e poi mi piace anche vedere la sovrapposizione tra velature. Ovviamente non bisogna esagerare perché creare troppe velature soprattutto con il colore troppo denso potrebbe elevare freschezza. Perciò anche questo è un elemento da sperimentare e da provare e creare questi ritratti in 30 minuti è un modo per farlo. Mi piace poi creare una velatura leggera quindi col colore molto diluito utilizzando un colore caldo in questo caso ho utilizzato il quenacridone siena che è un colore fantastico per scaldare tutta la zona d'ombra in una volta sola e sto anche evitando di andare sopra tutta la campitura in maniera uniforme proprio per creare diversi margini e lasciar trasparire in alcuni punti gli strati sottostanti. Questo secondo me ha funzionato perché ha creato una sensazione molto di spontaneità e di freschezza per questo studio. Poi niente qui mi sono fissata con questa cosa che è successa sulla paletta che ha creato una specie di alberello. Non so se vi è mai capitato a volte si creano dei dipinti spontanei sulla paletta più belli di quelli che stiamo facendo sul foglio. Comunque questo è il risultato finale per questo ritratto. Vi invito a fare questo esercizio spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se volete vedere tutti questi piccoli ritratti che ho fatto in 30 minuti li trovate su Patreon nella sezione delle dirette ricaricate. Io vi ringrazio per aver guardato fino alla fine e noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao! 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 Grazie.